siamo il 26 dicembre dell'anno 2016 ci troviamo qui nella piazzetta padriglione dove è stato allestito il museo vivente il presepe vivendo organizzato dalla chiesa di san giorgio adesso vi faccio vedere qualche cosa dell'avestamento pericolare calciatevi questo becchierino è buono becchierino, non fa bene un becchierino, ma salute no? salute il pagnotto che fa il bocchino con il bocchino il pagnotto vuole dare il bocchino con lei sta facendo quel vino capisci? no no ho capito ed è indiretta pure questo caso fa piacere, fa piacere peccato che non c'è un amico con lei è indiretta c'è l'altro che è un amico no? ti stanno vedendo tutti vedi qua non ha detto che vive con un bambino di Gesù come no? saluti con un bambino di Gesù oggi è risuscitato no? ieri e poi è risuscitato stai facendo la diretta su facebook allora mangio questo figlio perché hai dei canari ti stai lasciando ti mando un versetto fa pochino ehi vada vada buon minuto alla mano vada che bello peccato che non c'è lui allora sono stato il primo sono stato il primo a dare l'ottetto è una fortuna grazie gli scadetti c'è il capo quattro ancora non puoi finire il partito c'è il capo quattro manna che la miseria va bene per il capo il fogo e non puoi finire non puoi finire il tutto non puoi finire ilхore non puoi finire il fuori e invece il calore stai facendo filmina signora ma non la giro le faccio vedere pure le faccio vedere tutte qua no no signora già mangio tre monacelli a dove i piccoli monacelli? ah già i friieri? si lo mangio a dove i piccoli? a dove i piccoli? guarda come stai mangiando guarda come stai mangiando sto mangiando me un bicchiere di vino non faccio mica guarda come stai mangiando grazie gentilissima guarda faccia tempo non c'è luce non c'è luce non c'è la fotografia non c'è la fotografia non c'è la fotografia non c'è la fotografia è più tempo passa tanto tempo bella fotografia io scannarizzavo da 6 anni e ora c'è lì c'è il cuore a meno fa cosa da amici complimenti bellissimo non c'è luce non c'è luce stava cuocenando il primo curale amici che non ti stanno guardando il primo curale amici che non ti stanno guardando il primo curale amici che non ti stanno guardando il primo curale amici che non ti stanno guardando il primo curale amici che non ti stanno guardando il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con tutta questa lana bravo il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando 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 è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando è che sei bello con il primo curale amici che non ti stanno guardando Grazie. 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 Grazie.